Nata in Argentina da genitori italiani, lì attorna Parma da piccola, accompagnando il padre, pittore, appassionata di recitazione, inizia a studiare presso la scuola del Piccolo Teatro di Milano dove incontra Giuseppe Pambieri, che sposerà il 18 luglio 1970. Ha lavorato nel mondo del cinema dalla prima metà degli anni 70, ma ha conosciuto la popolarità con il film Mia moglie è una strega nel 1980. Ha poi recitato in altri film per il grande e per il piccolo schermo. Nella sua carriera è stata diretta da registi famosi quali Dino Risi, Franco Castellano, Steno, Carlo Vanzina e Giorgio Capitani.